Non si fa questa cosa qui, non si può fare Cioè è vergognoso che sei eh Si è ritorto contro Sì, questo diritto Cioè ne è passato appena Piedina Buonasera, dimmi tutto Ecco il più asino di tutti i WGF Qual è l'ultimo voto di scuola che ti ricordi di aver preso? Eh guarda, non lo so, però è sicuramente un'assenza di quelle... No, no, l'assenza non è un voto Un voto, un voto L'ultimo voto, mi ricordo, la geografia tipo 4 e mezzo Bello, bravo, bravo Perché poi è andato male Qual è l'ultimo voto che ti ricordi tu invece? Io